Sono giorni difficilissimi perché si muove in treno, una situazione che è peggiorata di anno in anno, ma così male, non so se voi avete memoria visto che lo prendete tutti i giorni. Gli avvenimenti nel mese di luglio si sono anche un po' complicati, come Comitato Pendolari di Arezza e Valdichiana non potevamo soprassedere nelle sporci rispetto agli avvenimenti di questi giorni, che comunque sono un po' più gravi rispetto al caldo, rispetto ai ritardi. In effetti la sicurezza deve essere sempre messa al centro di tutte le attenzioni, di tutte le organizzazioni che operano nel settore dei trasporti, partendo da regioni e dalle società private che gestiscono il trasporto. Volevamo porre l'attenzione sia negli ambiti locali che anche all'Agenzia per la Sicurezza Nazionale del Trasporto Ferroviario rispetto a quella che è la situazione e le nostre preoccupazioni. Una porta che si stacca comunque sia è un evento gravissimo che potrebbe portare anche a eventi di cronaca. E soprattutto vogliamo porre anche l'attenzione rispetto a quello che è la nostra perplessità secondaria, ovvero che da una situazione di questo tipo ne derivi un peggioramento del servizio ferroviario, ovvero alcuni treni non sono in grado di viaggiare al di sotto della galleria della direttissima, non vogliamo che ne derivi dei peggioramenti delle condizioni di trasporto. Purtroppo si sa quando si parte e non si sa quando si arriva. Il Comitato dei Pendolari della Val di Chiana di Arezzo tre anni fa scrissero all'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria esattamente le stesse cose che abbiamo riscritto ieri, ovvero volavano porte, volavano finestrini in condizioni assolutamente poco sicure. Noi non sappiamo cosa sia accaduto, però come viaggiatori perlomeno il diritto di sapere cosa è successo e se i treni sui quali viaggiamo sono sicuri. C'è stata una presa di posizione anche di Vincenzo Cercarelli che ha detto abbiamo richiesto e ottenuto alla Trenitalia un bonus per questi disagi e l'aria condizionale. Sì, è una notizia di oggi pomeriggio alla quale vogliamo dare in questa sede facendo appello a tutti i pendolari di qualsiasi tratta toscani che conservino l'abbonamento qualunque esso sia del mese di luglio perché ad ottobre si avrà diritto a un bonus straordinario diciamo come piccola compensazione per i disagi subiti per la climatizzazione.